Ok, ne prendi una? Ce l'hai? Questa Ok, la lasci pure qua? Provo a ritrovarla in una maniera un po' particolare, sei pronta? Sì Rossa? No, nera Era la donna, no? No Guarda, prova così Ah! La rifaccio, la rifaccio E 5 all'interno, all'interno L'unica all'interno Ok Quindi 5 è dentro, all'interno Sì Prova a farla salire in cima, sei pronta? Sì